Violenza, aggressioni, degrado. C'è di tutto in via della Salvia, da Cilia. La strada, oltre ad essere una discarica e un orinatoio a cielo aperto, la sera diventa terra di nessuno, tanto che non mancano segnalazioni che parlano persino di prostituzione minorile. È tutto chiuso, tutto lasciato così all'abbandono, c'è violenza di tutti i tipi, i bambini spesso vengono aggrediti da delle bande, addirittura la sera si è parlato pure di prostituzione minorile, ma non c'è controllo. Anni indietro c'era un presidio dei vigili e già quello faceva molto. E poi se pensiamo che c'è pure il municipio, sopra il comune, tutto così, abbandonato, zero, nessuno che si interessi. Rimane sempre così, abbandona, a notte quello che si dice, che c'è stato tutto quanto. Bagni pubblici, prostituzione violenta. Sì, tutto questo, si parla che c'è questa cosa qua la notte. Poi i parcheggi. È un figlio, ho visto. Anzi, non ho due, una di 16 anni anche, la paura mia che viene sempre alla stazione, la paura è quella. Un posto tutte le mattine perché devo andare a lavorare, accompagnarla, specialmente in inverno quando deve andare a scuola e tutto quanto, perché mi sembra un po' assurda la cosa. Ha paura. Molta, molta paura. Eppure nel bilancio previsionale di quest'anno sono stati stanziati 200 mila euro per la riqualificazione della diacente Piazza Capelvenere, fattore che porterebbe a una bonifica generale di via della Salvia. C'erano 200 mila euro stanziati? Ci sono, da quello che ci dicono, di quello che ci dicono ci sono 200 mila euro stanziati su Piazza Capelvenere. Noi abbiamo fatto, il 16 abbiamo protocollato sia al municipio decimo che al comune di Roma, abbiamo protocollato una petizione con 700 firme perché volevamo sapere con questi 200 mila euro il lavoro che veniva fatto, però ancora non sappiamo nulla. La sera qui c'è gente in pratica che spaccia, che viene in pratica malmenata, abbiamo fatto una pulizia della piazza nel 2018, abbiamo trovato un cortello a seramanico dentro una delle catitoie dell'acqua dove abbiamo chiamato la pulizia, la pulizia è venuta, era anche sporca di sangue, ci ha detto che in pratica era un coltello che la settimana prima c'era stato un accoltellamento. Quello che ci dice la gente è che la sera qui, oltre a quello, oltre allo spaccio, oltre alla gente che viene molestata mentre che passa perché c'è quello che gli dice dammi, magari vede il cellulare, dammi i soldi, ci dicono anche che ci sia la prostituzione mirurile. Insomma la paura è tanta, i residenti chiedono di essere tutelati per vivere in totale sicurezza.